Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione Milano. Vediamo subito i titoli di oggi. È stata dissequestrata la casa in cui Giulia Tramontano abitava con l'omicida. La madre, Loredana Femmiano, ha preso tutti gli oggetti di vestiti della figlia. L'annuncio sui social. Altre 20 potenziali vittime di violenza, oltre alle 8 già ascoltate dagli inquirenti, si allarga macchia d'olio il caso delle torture all'interno del carcere minorile Beccaria. I sindacati chiedono le dimissioni dell'assessore regionale Paolo Franco. Dopo il presidio di ieri aveva definito i manifestanti persone che non rispettano la legalità. Sono passati tre anni e pure l'edificio è ancora lì, abbandonato e fatiscente col rischio di cedimenti. L'ex scuola di Via Vallarsa, i sindacati chiedono di ricostruire la primaria. Probabilmente non servivano dei dati per rendersene conto, ma ora arriva la conferma. La primavera di quest'anno a Milano è stata la più pioveosa degli ultimi 128 anni. In apertura lo avete sentito la cronaca con due casi che stiamo seguendo da vicino ormai da diverso tempo e iniziamo dalle violenze, le torture all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano perché oltre alle otto vittime già ascoltate degli inquirenti, l'inchiesta si sta allargando a altre 20 potenziali vittime. Sentiamo. Si allarga a macchia d'olio, e forse in pochi non se lo sarebbero aspettato, l'indagine sul sistema Beccaria sulle botte le torture ai detenuti del carcere minorile di Milano. Il primo filone, quello esploso poco dopo la metà di aprile, aveva visto finire in manette 13 poliziotti mentre altri otto erano stati sospesi dal servizio. Ora però ci sarebbero i racconti di una ventina di nuove vittime che negli ultimi giorni sarebbero venute allo scoperto parlando con gli inquirenti e raccontando quello che accadeva all'interno dell'istituto penale minorile. Sono già una decina i ragazzi ascoltati in questi giorni dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dai PM Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena. Le testimonianze su almeno altrettanti casi, tutti già individuati dalla squadra mobile e dalla polizia penitenziaria che conducono le indagini, saranno invece oggetto di colloqui da qui alle prossime settimane. La procura sta lavorando per mettere insieme tutti i tasselli di questo drammatico mosaico fatto di immagini crude delle telecamere di sorveglianza, racconti violenti e un vergognoso velo di omertà che avrebbe coperto il tutto nel tentativo di insabbiare la cosa. Ed è proprio sulle omissioni che le indagini si andranno a concentrare con la valutazione delle posizioni degli ex vertici del beccaria e del personale sociosanitario. Non a caso, le due ex direttrici sono al momento tra gli indagati. Intanto i PM hanno deciso di impugnare davanti al Tribunale del Riesame la decisione del GIP di limitare al solo beccaria le sospensioni dal servizio di alcuni degli agenti coinvolti e di sostituire il carcere con i domiciliari per altri poliziotti arrestati. E' stata dissequestrata l'abitazione in cui Giulia Tramontano abitava con il compagno omicida Alessandro Impagnatiello, la madre di Giulia, annunciato sui social di essere entrata nell'appartamento e di aver recuperato gli oggetti vestiti dalla figlia. E' passato un anno dalla morte di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello. La giovane era al settimo mese di gravidanza e in estate avrebbe abbracciato per la prima volta il suo piccolo Tiago. E dopo 12 lunghissimi mesi la mamma di Giulia ha finalmente potuto fare il suo ingresso nell'appartamento dove è avvenuto il delitto, il piccolo bilocale di Via Novella che la giovane coppia condivideva. Cara Giulia, finalmente ho riportato tutto ciò che era tuo a casa, ha scritto la mamma Loredana Femiano prima di tornare a Sant'Antimo, la cittadina alle porte di Napoli in cui Giulia è nata e cresciuta prima di trasferirsi al nord per lavoro. Ho pianto, mi sono disperata, distrutta, devastata, ho annusato ogni singola tua cosa, da ieri sera sento il tuo odore ovunque, vedo finalmente le cose come se fossi tornata a casa. La Corte d'Assise di Milano ha infatti recentemente autorizzato il dissequestro dell'abitazione di Senago. Nello stabile a pochi giorni dall'omicidio della 29enne, gli investigatori avevano trovato decine di macchie di sangue sparse tra il pavimento del salotto di casa, le scale del condominio e i garage. Per i carabinieri addirittura il barman, 31enne, avrebbe preparato la scena del delitto arrotolando il tappeto di casa prima dell'arrivo della fidanzata, coprendo il divano con un gelo per non sporcarlo e pulendo in seguito la scena del delitto con attenzione maniacale. Ho un dolore immenso, mi lacera, mi toglie il fiato, mi squarce il cuore quello che resta. Sono state sempre le parole della mamma di Giulia Tramontano che proprio nei giorni scorsi ha scritto una lettera indirizzata alla figlia scomparsa. Ho le tue cose ora qui, sento il tuo odore in tutta la casa, ma tu, Giulia mia, vita mia, senza di te non sono più niente. Lasciamo la cronaca per alcune polemiche politiche e non solo a Milano, a cominciare da quella sollevata dai sindacati per l'ex primaria di via Vallarsa, ancora abbandonata ormai da anni. Vediamo. Sono passati tre anni eppure l'edificio è ancora là, abbandonato e fatiscente con i suoi cartelli che minacciano crolli e cedimenti. Questa è l'ex scuola elementare di via Vallarsa, a poche centinaia di metri dalla Fondazione Prada e dal futuro villaggio olimpico. Completamente lasciata a se stessa negli ultimi tre anni, i ragazzi che la popolavano sono stati trasferiti nella vicina scuola di via Oglio. Tutto bene se non fosse che la struttura non è sufficientemente grande o organizzata per poter ospitare tutti i ragazzi, motivo per cui i sindacati sono scesi in piazza sotto Palazzo Marino. Siamo qui insieme a Cisle e Anief per chiedere al Comune di Milano la riapertura della scuola primaria di via Vallarsa a Milano, chiusa da tre anni, spostata in via Oglio, in una condizione però insostenibile. La mensa non c'è, praticamente è in un corridoio a Piano Terna, sono tre piani di scuola senza scale, le aule sono molto piccole e condivise anche con parte della mensa. chiediamo al Comune di ripristinare urgentemente la scuola di via Vallarsa. Il Comune ha accolto i rappresentanti delle sigle sindacali scese in piazza, CGL, Cisle e Anief, per poter avere un confronto. L'orizzonte temporale fornito da Palazzo Marino per la demolizione e ricostruzione dell'edificio di via Vallarsa parla di circa 4 o 5 anni, ma ciò che conta è che non sembrerebbero chiare nemmeno le intenzioni sul futuro di queste palazzine. Il Comune starebbe pensando di realizzarvi una scuola secondaria piuttosto che una nuova primaria, ma, sottolineano i sindacati, è proprio di una scuola elementare, ciò di cui oggi ha bisogno il Municipio 5. In questa zona di Milano, zona Corvetto, lo spostamento della primaria ha provocato uno spopolamento proprio in una certa zona che è andata altrove a cercare la primaria e nello stesso tempo un concentramento di tre plessi, tra cui quello di Via Olio, che insiste sulla stessa zona e in pratica si fa a vicenda, diciamo, competizione per gli iscritti. Noi siamo già andati in USR Lombardia, abbiamo fatto presente loro che l'anno prossimo noi avremo sei classi di 20 allievi, più o meno in media, ma ci saranno sette allievi con handicap grave e lo Stato ci dice che ognuno di loro dovrebbe avere una classe con non più di 20 alunni, i conti non tornano. Sindacati all'attacco anche della Regione, in particolare dell'assessore alla Casa Paolo Franco, dopo il presidio di ieri sul tema dell'emergenza abitativa, aveva definito i manifestanti persone che non rispettano la legalità. Il presidio di mercoledì 12 giugno sotto Regione Lombardia, organizzato dai sindacati confederali e dagli inquilini per chiedere un cambio di rotta sulle politiche per l'edilizia residenziale pubblica, tutelando le persone e i nuclei familiari che hanno effettivamente diritto, ha scatenato un bel polverone. Tanto che si sta montando una vera e propria polemica scaturita dalle parole dell'assessore alla Casa Paolo Franco. Per quanto mi riguarda però deve essere ben chiaro che Regione Lombardia sta dalla parte della legalità e degli inquilini che rispettano le regole. Noi difendiamo le persone per bene, non coloro che sono morosi e abusivi come la Salis. Evidentemente abbiamo due sensibilità differenti, loro stanno dalla parte della Salis, la Regione Lombardia sta dalla parte dei cittadini onesti. Ricordiamoci bene che chi oggi occupa abusivamente delle case toglie la possibilità della casa chi ne ha diritto. Noi saremo sempre contro la cultura della legalità. Possono fare tutte le manifestazioni che vogliono, noi non arretriamo. Subito è arrivata la risposta del sindacato Will che chiede le dimissioni dell'assessore Franco proprio perché ha definito i manifestanti persone che non rispettano la legalità. L'assessore ha associato questi cittadini, questi lavoratori, questi inquilini, queste persone che ieri hanno dedicato una parte del suo tempo per manifestare, quindi hanno sottratto delle ore al proprio lavoro per far sentire la propria voce, sono stati associati a quelle persone che sono non corrette, che non rispettano la legalità, che non pagano i canoni. Quindi noi crediamo che l'assessore da questo punto di vista forse è rimasto ancora indietro di qualche giorno alla campagna elettorale e chiediamo al Presidente della Regione Lombardia di intervenire rimuovendo le deleghe da questo assessore perché non rappresenta i cittadini lombardi, non rappresenta le famiglie che sono in difficoltà. Abbiamo fiducia che il Presidente Fontana ascolti anche le nostre dichiarazioni e prenda su serio questa iniziativa perché non è modo di agire. Si può agire in tante altre situazioni, si possono creare dei tavoli di confronto, c'è un'emergenza sfratti, c'è un'emergenza anche di morosità, allora si affronta con le organizzazioni sindacali, non con temi da campagna elettorale che a noi non ci appartengono. Il sindacato della Will dunque ha inviato una lettera al Presidente Fontana in cui si chiedono espressamente le dimissioni dell'assessore Franco. Raggiunto dalle nostre telecamere il Presidente Fontana ha commentato così. Ma guardi, non ho ancora letto la lettera del Segretario della Will, la leggerò e in tua mente, anche perché non so bene cosa sia successo ieri, per cui dovrà esaminare tutta la situazione e poi valutarlo. Ha paragonato i manifestanti a Ilaria Salis, diciamo coloro che non seguono la lettera? Leggerò e poi prenderemo le decisioni. E' un altro caso polemico è quello che riguarda Milano Ristorazione con il capogruppo a Palazzo Marino di Fratelli d'Italia che ha presentato un esposto in procura per il mancato intervento dal comune sui corpi estrani riscontrati all'interno del cibo delle mense. Sentiamo. Un esposto in cui si chiede alla procura di Milano di accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti assunti dal comune siano rinvenibili, fatti specie penalmente rilevanti. Il caso di Milano Ristorazione, con i numerosi ritrovamenti di corpi estranei nei pasti dei bambini delle scuole milanesi, finisce così davanti a un giudice. A portarcelo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Riccardo Truppo, che è tornato alla carica sulla mancata azione da parte dell'amministrazione davanti ai ritrovamenti di pezzi di vetro e insetti. Per noi è l'estrema razio di un percorso che ci ha visto utilizzare tutti gli strumenti politici e amministrativi dell'opposizione, richieste di commissioni, richieste di consigli straordinari, interrogazioni, domande e risposte immediate, ma non abbiamo mai avuto una chiarezza rispetto alla gestione di questa emergenza. Oggi noi chiediamo conto non dei ritrovamenti, ma del perché l'amministrazione abbia gestito in questa maniera i ritrovamenti. Se il rischio, il pericolo è sussistente, l'erogazione del servizio o deve essere sospesa o ci devono spiegare perché non venga sospesa. Secondo Truppo dunque, la mancata azione immediata da parte del Comune potrebbe configurare un'omissione di atti d'ufficio da parte di Palazzo Marino, ma non solo perché secondo il capo pattuglia meloniano, all'interno del corpo docente delle scuole milanesi vi sarebbe il timore nel denunciare eventuali nuovi ritrovamenti. Sicuramente gli insegnanti vivono un clima di tensione e di timore nel raccontare eventuali disfunzioni dei servizi o anche della condizione lavorativa che vivono. Questo ovviamente non legato ad attività o richieste dall'amministrazione, questo non lo so e non li ho la prova, non li ho la contezza, ma sicuramente devono essere invogliate a raccontare, non devono avere la paura di rovinare l'immagine né a Milano Ristorazione né all'amministrazione né all'amministrazione scolastica. La salute pubblica viene prima di tutto. Di fatto si ripropone lo scontro che già aveva animato l'aula di Palazzo Marino alcune settimane fa quando la vice sindaco Anna Scavuzzo aveva difeso l'operato del Comune spiegando che tutto era stato fatto secondo le norme vigenti e che tra gli obiettivi dell'amministrazione vi era anche quello di evitare la diffusione di un panico ingiustificato, solo che adesso a decidere chi ha ragione sarà un giudice. Chiudiamo la pagina delle polemiche politiche non solo perché torniamo ad occuparci di tempo, anzi di mal tempo e i numeri che hanno confermato nelle ultime ore qualcosa che si era ampiamente capito a Milano, l'ultima primavera è stata la più piovosa degli ultimi 128 anni. Probabilmente non servivano dei dati per rendersene conto ma ora arriva anche la conferma a Milano questa primavera è stata la più piovosa degli ultimi 128 anni. Secondo le rilevazioni della fondazione OMD, l'osservatorio meteorologico Milano Duomo, in totale tra il 1 marzo e il 31 maggio sono caduti 647.7 mm di pioggia, un dato di molto superiore ai 237.5 della media di riferimento che va dal 1991 al 2020. La temperatura media della stagione è stata invece di 15.3 gradi, di mezzo grado superiore al valore di riferimento. Così se guardiamo nello specifico, se aprile è stato solo leggermente più piovoso della norma, particolarmente piovosi sono i risultati marzo e soprattutto maggio, che con un quantitativo di precipitazioni pari a 362 mm è risultato essere uno dei mesi di maggio più piovosi di sempre, secondo solo a quello del 1984. Il 15 maggio è stato anche il giorno più piovoso del trimestre, nonché il giorno di maggio più piovoso degli ultimi 128 anni. Ma non solo nel corso della stagione sono stati numerosi e sempre più frequenti gli episodi temporaleschi, già a partire dagli inizi di marzo, talvolta accompagnati da grandine e da forti raffiche di vento. Per quanto riguarda invece le temperature, la primavera 2024 è stata caratterizzata da un'alternanza tra periodi più caldi della norma e altri decisamente più freddi, tra i quali spicca l'ultima decada di aprile, preceduta da una fase dai connotati quasi estivi. La temperatura media di marzo, 12.3 gradi, ha superato di 1.5 gradi quella del trentennio di riferimento. Nel complesso anche aprile è risultato più caldo del normale, mentre maggio, con una temperatura media di 18.4 gradi, è stato più freddo del periodo di riferimento di 0.7 gradi. La temperatura massima più elevata, ovvero di 30 gradi, è stata registrata il 14 aprile, mentre il 22 di aprile si sono verificate sia la massima che la minima più bassa del trimestre. Per quanto riguarda infine la ventilazione, nel corso del trimestre è stata prevalente quella dai settori orientali, inoltre il 38% dei casi il vento medio è risultato essere superiore o uguale a 1.5 metri al secondo. La raffica più forte, 69.1 km orari, è stata registrata il 16 di aprile. Torniamo ad occuparci anche della ristrutturazione dello stadio di San Siro. Dopo le parole di WeBuild arriva la conferma anche del sindaco di Milano, Beppe Sala. Il progetto è pronto, sarà illustrato a breve. La conferma arriva direttamente dalla voce del primo cittadino. Una settimana o poco più, poi il progetto per la riqualificazione del Meazza verrà svelato, quantomeno, agli occhi degli interessati, ossia il Comune, Inter e Milan. Già perché in fondo il documento che WeBuild sta ultimando servirà proprio a far tornare i club sui propri passi verso un progetto che abbia il suo cuore entro i confini cittadini piuttosto che nell'Interland. I dubbi resteranno però fino a che il progetto di restyling del Meazza non verrà svelato, ma il sindaco ha spiegato che dovrebbe avere tutto ciò che serve alle squadre per poter valutare un ritorno a quella che fino ad oggi è la loro casa. Stiamo cercando di fissarlo perché bisogna mettere insieme l'agenda di Inter, Milan, WeBuild e la mia, però lo fisseremo se non è settimana prossima a quella successiva. Io non ho visto il progetto ma da WeBuild mi hanno detto che è sufficientemente elaborato per poter dire qual è il costo, in quanto tempo si può farlo e qual è il disturbo che si darebbe alle partite. Ovviamente l'ho mandato a ricreare un disturbo minimo. Il tema più rilevante per i club resta quello della sovrapposizione tra i lavori e le partite da giocare era stato proprio questo, uno se non il principale, tra i motivi che avevano spinto Inter e Milan a guardare rispettivamente a Rozzano e a San Donato per la realizzazione di due impianti ex novo. Da un lato i rossoneri hanno investito qualche decina di milioni, circa una quarantina, per l'acquisto delle aree coinvolte. Dall'altro i nerazzurri sono stati più cauti. Ancora sotto la gestione su Ning si erano accaparrati l'esclusiva sulla zona interessata senza però mettere mano al portafoglio. A valutare la soluzione di WeBuild però non sarà più la famiglia Zhang, bensì la nuova proprietà, passata al fondo americano Oak Tree, che il sindaco spiega di non aver ancora incontrato. No, non li ho ancora incontrati, mi hanno scritto, mi hanno mandato un'email presentandosi e quindi ho solo a questo momento, a questo punto avuto un rapporto epistolare per così dire. Cambiamo decisamente argomento. Chiara Ferragni ha divorziato da Fabio Maria D'Amato, il manager ha deciso di lasciare il gruppo. Chiara Ferragni saluta lo storico manager e amico Fabio Maria D'Amato. Dopo anni di collaborazione arriva l'addio ufficiale. La spaccatura ha cominciato ad aprirsi con il caso Balocco e si è consumata giovedì 13 giugno con un comunicato ufficiale delle aziende Fenice TBS Crew, che recita a partire dal 16 giugno 2024 Fabio Maria D'Amato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale. Il divorzio era nell'aria da tempo, da quando è scoppiato il Pandoro Gate. D'Amato era diventato il numero uno in poco tempo sotto solo alla founder nelle due aziende Ferragni. In più di un'occasione l'ormai ex marito Fedez aveva fatto intendere che dietro allo scandalo Balocco ci sarebbe stata una gestione sbagliata proprio di D'Amato. Già nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva dato piene delega alla madre Marina Di Guardo nella holding personale Sisterhood. Domani sarà il mio ultimo giorno da general manager di TBS Crew e Chiara Ferragni Brand e per questo voglio ringraziare tutti i loro professionisti che con la loro esperienza e umanità hanno voluto affiancarmi in questa avventura. Ha scritto Fabio Maria D'Amato subito dopo la nota del gruppo aggiungendo oltre ovviamente a Chiara Ferragni che più di sette anni fa mi ha chiamato per supportarla nell'evoluzione del suo progetto di business credendo nella mia visione. D'Amato ha poi ringraziato tutta la famiglia Ferragni, madre e sorelle comprese. Stiamo a Milano, cambiamo argomento perché parte oggi e proseguirà fino a domenica in piazza Duca d'Aosta un grande evento dedicato al pattinaggio. Sarà proprio Milano ad ospitare la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di Inline Freestyle. Dal 13 al 16 giugno le stelle del pattinaggio si daranno appuntamento nel capologo lombardo per la Hero Battle Cup, lo spettacolare tour del più importante circuito internazionale sui pattini in line che si disputa da 13 anni anche in Italia. L'appuntamento rappresenta un antipasto di quella che sarà la manifestazione più importante per gli sport rotellistici, i prossimi mondiali 2024, i World Skate Games ospitati a settembre proprio in Italia. Il World Battle Cup per la prima volta si troverà a Milano davanti alla stazione centrale. Sarà un grandissimo evento pieno di attese perché abbiamo circa 280 pattinatori provenienti da 20 nazionalità che rappresentano i 5 continenti e sarà un evento che durerà dal 13 giugno al 16, un evento World Skate promosso dalla Federazione Internazionale e la Federazione Italiana di Sport Rotellistici, 3 stelle che significa il più importante a livello mondiale. Sarà una delle tappe di Coppa del Mondo, la scorsa settimana c'è stata la prima tappa in Corea a Changsheon e per la seconda tappa abbiamo Milano. Non ci dimentichiamo poi a settembre i World Skate Games a Roma. Le iscrizioni per la tappa milanese della Hero Battle Cup hanno fatto registrare il sold out in appena 48 ore dall'apertura, più di 260 atleti da 20 nazioni, tra cui Spagna, Francia, Polonia, Ucraina, Cina, India, Iran, Corea, Giappone, oltre naturalmente che all'Italia. In scena tutte le specialità dal Classic, Pairs e Battle, che prevedono adrenalinici, tricks e complicate combinazioni di passi e ritmo di musica, allo Speed, mirabolante prova di velocità, fino al Jump, ovvero il salto in alto sui pattini e allo Slide, emozionante sfida a colpi di frenate. La location scelta è quella di Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione centrale di Milano. La competizione aiuterà a rigenerare e a mostrare nuove modalità di vivere, un luogo importante della città, un modo per condividere in maniera positiva una delle piazze centrali di Milano. Sarà un grande spettacolo, quindi invitiamo tutti dal 13 al 16 giugno in stazione centrale Piazza Duca d'Aosta, assieme al Seastation Summer, che è un grande villaggio promosso dalla stazione centrale e il comune di Milano per rigenerare questo grande spazio di fronte alla stazione che diventerà per l'occasione, per un mese, un grandissimo villaggio sportivo. E' tutto con questa notizia, adesso il metro, noi come sempre ritorniamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.